E' incredibile. Ma secondo te lui piange? Suo diservitudo era da vivere tipo a 10.000 persone. E' lui, è la sua scorta! Non è così basso come dicono. Dimmi che è vero. È vero. Ha le mani da re. Dovrebbe portare un anello. Io vorrei abitare nel suo cervello. Quando si veste da ammiraglio mi fa impazzire. Ma... Ragazzi... Silvia. Io sono un uomo. Io sono l'angelo della notte. Io conosco... Il copione della vita. E il mio ruolo politico? Semplice. Convincere sei senatori a passare dalla tua parte. Convincere sei senatori. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Tutto è così patetico, presidente. Grazie. grazie